buonasera a tutti gli amici di karateka.it io sono Alessio Sorrentino e stasera siamo con Giulio Angelucci che però come al solito ecco brava al massimo puoi salutare con la mano ma ancora non può proferire parola perché come sempre in questo primo minuto aspettiamo che tutti i nostri amici si colleghino infatti stiamo già vedendo qualcuno arrivare ma ora vi dovete esorbire questo minuto in cui vi racconto quelle che sono le buone maniere per assistere a una diretta di karateka per cui io vedo già dieci persone più collegate ma vedo solo tre like per cui lasciate un like condividete mettete domande scomode a Giulia nei commenti bravo Gianni che ci saluta grande Giulia già iniziano bene quindi il pubblico ti vuole bene ti vuole bene è un po' che non ci vedevamo ragazzi quindi mi fa piacere e ragazzi ovviamente essere stasera infatti mi sono ingiacchettato per l'occasione dato che la puntata 44 come i gatti deve essere celebrata in una maniera particolare ma il mio minuto a disposizione è scaduto per cui vi ricordo solo che se vi perdete qualche parte dell'intervista la potete ritrovare subito dopo qua su facebook ma anche sul nostro blog dove verrà anche trascritta su spotify e su youtube per questo ma imperdibile la ritrovate davvero su ogni piattaforma salutateci nei commenti ma soprattutto finalmente posso dire buonasera Giulia e benvenuta alle Karate Talks ciao a tutti ciao ciao come stai come pronta a scendere sul tatami con questa sera siamo sono più di 30 persone tutte insieme non so se sei solito ad avere 30 30 spari 30 spari solo uno quindi 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 è difficile esatto 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 innanzitutto volevo ringraziare l'esercito che ci ha dato la possibilità eh di fare questa intervista eh che come sempre insomma il vostro tempo è prezioso e non è per niente eh per niente scontato io eh prima di farti la prima domanda di vita salute di rito saluterei Daniela Berrettoni tra l'altro che ci segue quindi ciao Dani eh Maurizio Verderio e Gianni Di Maria che sono con noi stasera ma insomma se ci salutate noi noi siamo qui per questo e eh ti introduco insomma con la nostra ormai domanda di rito che dici qualcosa magari che è più una passione o qualcosa di nascosto che i più non sanno di Giulio Angelucci allora di nascosto non c'è niente la mia più grande passione ovviamente è il karate e in realtà anche passioni extra proprio non ce ne sono perché alla fine io ho la passione dei bambini quindi seguo i bambini in palestra però sempre il karate quindi vado ad aiutare in palestra nella mia vecchia società e niente aiuto il mio maestro con i bambini dall'asilo fino ai più grandi celli che sono i ragazzi delle medie questo da radico a domande molto interessanti perché eh molti campioni mi hanno detto che eh dopo l'attività agonistica eh si vedono a insegnare però sinceramente è la prima volta che che sento di un atleta insomma così di alto livello che abbia anche voglia di mettersi sul tatami con i bambini no mi piace tantissimo mi piace tantissimo quello proprio è la mia passione cioè stare lì con i bambini eh giocare con loro insegnargli qualcosina davvero la passione mi piacerebbe farlo in un futuro ok allora innanzitutto io direi partiamo con eh le hot news quindi gli ultimi avvenimenti che magari ci puoi raccontare più dall'interno ma io mi eh rilascerei una parte di questa intervista per fare un po' così perché mi sembra davvero un argomento su cui su cui tornare eh Fugeira eh sei tornata se lo pronunciava bene perché ancora non ho capito come ah non lo so neanche io quindi eh terra franca ultima Premier League penso che sia più comprensibile per per tutti eh lo vedi più come un quinto posto conquistato o un bronzo sfiorato eh il l'ultima finale allora eh più come un bronzo sfiorato perché era la mia portata potevo benissimo farcela un po' mi sono fatta prendere dall'emozione era la prima finale di di Premier League che facevo e è stato tutto emozionante mi sono fatta un po' prendere da quello e non sono riuscita a conquistare il bronzo quindi la trovo più come un bronzo sfiorato che come un quinto posto conquistato sono abbastanza soddisfatta ma si poteva fare meglio si poteva fare meglio intanto ti saluta Ahmed insomma che è stato nostro ospite ciao Ahmed eh non so se anche eh se ci si è anche Giulia al nome al nome dell'animale oppure era solo una cosa della squadra maschile no ho anch'io il nome dell'animale ma non mi piace io non lo voglio anzi Ahmed me ne ha dato un altro però ok allora il nome dato da Pietro Marchi perché mi è stato dato in Giappone a Tokyo quando siamo andati a Gotemba per le Olimpiadi ed è coniglio ma a me coniglio non mi piace eh ok allora possiamo fare una cosa visto che siamo tanti stasera suggerite un nuovo soprannome per Giulia nei commenti Ahmed Ahmed lo sapeva il mio nuovo animale ma non me lo ricordo più cosa mi aveva detto quindi bisogna suggeriscelo esatto esatto Ahmed ce lo devi dire comunque oh stasera si vede insomma sono attivati un po' per la mia giacca un po' per la ripresa delle talks eh saluto un po' di amici che ci hanno scritto nel frattempo quindi ciao a Sergio ovviamente Ahmed a Diu eh da Hoshin che non so dove sia quindi Diu se ci dici dov'è Hoshin tu lo sai dov'è Hoshin no non lo so io non lo so però evidentemente molto lontano eh eh Tiziana Biancaneve eh eh ha detto mi sa che questo Diu Diu lo conosci secondo me ma Hoshin lui è il suo nome Hoshin ah scusami scusami è colpa mia che ho confuso ho confuso il nome con eh con il nickname eh ma eh tornando invece tornando invece a noi eh sulla parte di che è successo non lo so ho ok mi vedi mi senti tutto a posto ehm dicevo eh ritornando invece alla parte di allenamento eh abbiamo sentito tanti atleti e si sono un po' ripresi anche eh post covid eh con una routine di gara molto molto stressante perché comunque eh sono ripresi i ritmi di prima ma con un bello stacco forzato nel mezzo eh com'è stato per te assorbire questo periodo periodo e come ti sei preparata alla alla all'ultima Premier League allora eh diciamo che non è stato facile all'inizio subito dopo che abbiamo ripreso ad allenarci comunque ci allenavamo anche con la mascherina e tutto è stato impegnativo poi eh col distanziamento quindi è stata tutta una ripresa molto graduale non è stato subito riprendere con intensità invece come hanno fatto ho visto in molti altri stati quindi all'estero non a volte non hanno neanche smesso tanti stati non hanno neanche smesso di allenarsi quindi per noi è stato un po' più difficile mentre per l'ultima Premier League invece già ormai avevamo ricominciato ad allenarci intensamente anche in nazionale a casa tutto quindi io mi sentivo preparata fisicamente eccetera quindi ero arrivata bene alla Premier League e dal dal punto di vista nutrizionale e psicologico visto che so che sono due argomenti che piacciono molto perché eh è comunque un livello di professionismo sempre quello più alto nel nel karate anche questi aspetti non possono essere lasciati al caso quindi vorrei chiedere tu come ti prepari eh ti fai seguire in tutti e due gli ambiti in alcuni sono seguita in tutti e due gli ambiti per fortuna sul livello nutrizionale io non ho problemi di peso quindi quello stress non ce l'ho perciò sono abbastanza libera di mangiare ovviamente sano ma quantità che voglio quindi è uno stress in meno per fortuna sono contenta di questa cosa ho fatto dieta in passato ma ora sto bene così nella mia categoria quindi sì all'estero è un po' difficile seguire una dieta abbastanza sana però per esempio lì a Dubai ci ritrovavamo a mangiare magari anche al McDonald's non in massimo prima di una gara però si fa quel che si può e invece sotto a livello psicologico io ho avuto un periodo abbastanza tosto dopo il covid riprendere le gare non è stato facile le vivevo con molta più ansia non ero più tranquilla non mi sentivo più me stessa infatti ho fatto brutte gare all'inizio e ora invece penso di poterlo dire sono seguita da Laura Pasqua e sì mi sto trovando benissimo mi è iniziata a seguire da poco e già la gara che la prima gara che ho fatto che sono che ero seguita da lei è stata proprio questa l'ultima Premier League e già mi è sembrata un'altra cosa cioè avevo voglia di fare la gara mentre altre gare avevo proprio più paura che voglia non riusciva a godermi quel momento che in realtà è bellissimo cioè lo facciamo ora lo faccio di lavoro ma è la mia passione quindi c'è dove dovrebbe essere il momento più bello per noi invece io me lo vedevo male paure ansie inutile che infatti non portavano a niente invece devo ringraziarla che ha fatto un bel lavoro e già subito alla prima Premier League ho notato cambiamenti veramente super tra l'altro io vi ricordo se siete interessati a questo argomento noi abbiamo fatto un focus di quattro puntate si chiama Karate Mind è una playlist che trovate su YouTube che è andata già molto bene quando facciamo le dirette sia con Laura appunto per quello la sto la sto rinominando sia con Nicoletta Romanazzi che so che segue eh tanti altri atleti del Karate e non solo per cui insomma andatevela a recuperare perché troverete qualche spunto eh che magari vi può vi può tornare utile intanto Ahmed ci aggiorna e ci dice che è con Gianluca De Vivo che salutiamo e che invitiamo insomma Gianluca quando vuoi e già e Gianluca dice che è d'accordo con 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 coniglio mentre Ahmed no Gianluca Gianluca no così non si fa dai si è giunta anche Veronica Brunori ciao Veronica oh ciao vero che manda tanti cuori e dice a bella e quindi ricambio e ricambio e anche te Veronica se ci vuoi suggerire stiamo alla ricerca del nuovo soprannome per Giulia un animale che secondo te si addice a Giulia che magari la conosci la conosci meglio dei ragazzi comunque argomento bambini ehm tu sei ovviamente una un'atleta di di comité eh specializzata in quello eh quando però vai a allenare appunto i bambini che tu mi hai detto appunto dall'asilo ah i bambini insomma gli esordienti immagino insomma non dicevi un po' più eh più alti ma eh fai solo la parte di comité eh fai la parte di gioco fai la parte di comité katà come come imposti gli allenamenti con i bambini? Allora facciamo una parte di gioco riscaldamento iniziale e poi la mia palestra della mia società che è il karate bozzuolo eh si è specializzata solo nel comité quindi anche i bambini facciamo solo comité noi perciò il katana non lo insegniamo e facciamo tutto comité ovviamente all'asilo facciamo solo giochetti percorsi varie cose mentre con i più grandi celli iniziamo un po' combattimenti esercizi attivi come te. Ok ma la la come si avviene come avviene l'avvicinamento eh di un di un bambino che ovviamente passa diverse fasi da eh un una simulazione di di combattimento diciamo prima di andare proprio sul tatami quali sono magari gli allenamenti che fate per fare questo passaggio cioè mi interessa anche proprio dal punto di vista eh di un atleta di alto livello com'è che prepari ragazzi e ragazze a passare dal gioco magari un gioco palla o un circuito un esercizio da soli a entrare sul tappeto. In realtà il bambino viene naturale secondo me quando si trova un altro compagno di fronte gli viene naturale poi vabbè facciamo vedere gli esercizi magari da ragazzi più grandi celli quindi loro tramite cioè copiano e poi imitano ma gli viene proprio naturale le metti un bambino davanti magari con le mani e le orecchie loro subito da soli iniziano a fare calci magari non perfetti ma capiscono subito quello che devono fare copiano e poi piano piano si passa dal bambino con le mani e le orecchie bambini in guardia si pare si pare risponde e piano piano li avvia il combattimento però i bambini cioè per imitazione fanno quasi tutto da solo poi te li puoi correggere sulle piccolezze su la tecnica eccetera ma l'istinto fa da sé. Tu hai iniziato proprio da piccolina oppure? Ho iniziato perché avevo quattro anni. Porca miseria quindi proprio è stato amore amore a prima vista sì sì sì. Guantini preferiti rossi o blu? Rossi mi alleno sempre con i guantini rossi. E dicevi c'era la tua? C'era la mia amichetta dell'asilo che faceva karate mi diceva dai vieni a far karate vieni a far karate e allora ho iniziato poi non ho più smesso però lei invece ha smesso. Eh infatti. Sì ha smesso dopo qualche anno io invece mi sono appassionata e basta. Adesso ho portato pure la mia nipotina che ha tre anni e ha iniziato a far karate anche lei ora ne ha quattro. Con miseria. Sì l'ho portata in palestra. Quindi ha tecnicamente un anno di vantaggio su di te e potrebbe diventare assolutamente più brava perché si allena giù. Ma è più svogliata no? È svogliata non ha voglia. Eh sarà un po' è una fase dai è una fase siamo sicuri è una fase. E innanzitutto ti fanno i complimenti come 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 allenatrice perché Maurizio dice a te piacciono i bambini ma sappi che anche ai nostri figli piace molto anche tu. Insegnamenti unici quindi sicuramente è tutta la vita. Il papà di due bambini nella mia palestra. La riporti anche con loro. Però ora diciamo parlando un po' più in maniera goliardica ma Antonietta Leone e Matteo Gamba ti dicono qualcosa? Sì sì. Perché loro propongono come come soprannome propongono stordita ma no. Non sapevo che sarebbe uscita questa cosa. Su raccontaci togliamoci questo sassone della scarta. Da dove deriva questa? Mannaggia. Allora nella mia società funziona così che il nostro maestro che è Marco Cividini lui gli piace dare soprannomi a tutti. Ognuno ha il proprio soprannome. Tutti nella mia palestra hanno un soprannome e a me è capitato stordita. Ok. Cosa ci posso fare? Nulla allora quello quello rimane sopra a coliglio. Non mi chiamano Giulia mi chiamano stordita in palestra. Ah figurati io ovviamente non mi permetterei mai anche perché immagino che poi dopo quando li trovi sul tatami te la ricordi sta cosa del soprannome e ci metti più grinta. Diciamo così. Però anche Veronica Brunori insomma non c'è andata molto leggera perché tira fuori un personaggio di Slenderman. Esatto. Lo sapevo. Tutte dovevano uscire durante questa intervista. Ma perché Veronica dice che ho le braccia lunghissime e quindi sembro Slenderman. Ok. Sei mai fatto Slenderman. Sì a grandi tratti però mi ricordo insomma dovrebbe essere qualcuno di tenebroso. Dovrebbe mettere parecchie anche paure. Sì ma è per le braccia lunghe. In nazionale c'è questa cosa che ho le braccia lunghe e quindi Slenderman. Arrivi prima appunto no rispetto alla versione. Esatto. È un vantaggio. È un vantaggio. Assolutamente. Arrivano tantissimi complimenti tra l'altro i genitori della tua palestra quindi insomma. Non ti senti più. Mi senti adesso? Sì. Mi sono persa dal pezzo di prima però. No dicevo stanno arrivando tanti complimenti dei genitori e dei ragazzini che allena in palestra. Ti saluto tra l'altro Sofietta. Sono contenta. Ah Sofietta. Soprannome Sofietta perché è piccolina piccolina e quindi Sofietta. Però sarà senza dubbio veloce. Sì velocissima. Una scheggia. Allora insomma aspettiamo lei un domani alle Karate Talks. Sperando che durino così tanto. Gli ha fatto un po' di agli italiani nel suo primo anno da esordiente. Wow. Conteniamo. Ha 13 anni. Ok. E poi allora dice Fioravante ci dice grande io lavoro da 30 anni con i bimbi mi hanno dato grandi soddisfazioni. Viva il karate. Beh non si può altro che dargli ragione. Ok ok io stavo guardando i commenti perché questa cosa il soprannome mi piace molto e volevo vedere se erano arrivate altri suggerimenti. Però insomma stasera hai già un parco di tre almeno tra cui scegliere. Tutti pessimi. Tutti pessimi. Allora mandiamo una challenge. Un soprannome per Giulia. Lo faremo anche nelle stories. Però solo soprannomi solo soprannomi carini per favore perché sennò qua non riusciamo non riusciamo a scegliere. E il nostro tempo a disposizione è giunto al termine perché devi sapere anche questa cosa che a me sembra sempre due minuti che è iniziata la live. Anche a me è sembrato pochissimo. Però siamo arrivati in fondo un po' come un incontro. Quando c'è l'adrenalina poi scorre molto veloce. Io ringrazio tutti stasera siete tantissimi. siete ancora in 50 connessi fino ad adesso quindi davvero grazie per essere stati con noi. Se vi siete collegati un pochino dopo come ho detto all'inizio o magari giustamente avete saltato la mia introduzione potete riprendere tutte le domande che ho fatto a Giulia rivedendo questa intervista o qua su Facebook perché è subito presente non appena noi finiamo su Spotify come podcast sul nostro sito non soltanto video ma anche scritta e ovviamente su YouTube. Io vi ringrazio per essere stati con noi grazie a te Giulia grazie a voi grazie mille per averci condiviso un po' dietro le quinte di quello che succede prima di una gara e soprattutto la tua grande passione per i bambini che sicuramente è un qualcosa di bello e importante io vi auguro una buona serata e ci vediamo nella prossima puntata delle Karate Talks Ciao Ciao a tutti grazie Ciao a tutti